Musica Presentata nella sede di CISPEL Toscana a Firenze, la prima campagna di comunicazione congiunta di 5 aziende toscane di igiene urbana. AER, ASM, CIS, Publiambiente e Quadrifoglio insieme con l'obiettivo comune di migliorare le prestazioni della raccolta differenziata, coinvolgendo cittadini e aziende e iniziando un percorso condiviso che darà vita ad un gestore unico per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. Nel servizio un'ampia intervista con il presidente di Quadrifoglio Giorgio Moretti. Nella Toscana delle eccellenze di cui ci piacerebbe poter parlare c'è spazio anche per i rifiuti. Presidente di Quadrifoglio Giorgio Moretti, qual è il futuro dell'eccellenza dei rifiuti in Toscana? Bisogna premettere che dietro all'azione di depositare un sacchetto o un rifiuto in un cestino, dietro c'è un mondo. Quindi potremmo vedere tre elementi fondamentali sui quali noi possiamo confrontarci in termini d'eccellenza. Uno è i sistemi di raccolta. Come noi serviamo i cittadini per far sì che in termini di comodità e in termini di sistemi tecnici e tecnologici di raccolta noi diamo una risposta di eccellenza al territorio. Questo è il primo passaggio, quindi impostare dei sistemi e delle tecnologie e delle metodologie per la raccolta è indubbiamente un primo punto sul quale bisogna ricercare l'eccellenza. E ahimè quando io sento parlare di generalizzazioni, facciamo il porta a porta, facciamo il porta a porta a spinta, eccetera eccetera, ecco queste sono delle generalizzazioni che non vanno verso l'eccellenza. Ogni territorio ha le sue caratteristiche, ogni dinamica è adeguata a certe caratteristiche, non è possibile generalizzare. Quindi situazioni diverse. Beh, se noi compariamo cosa vuol dire raccogliere un rifiuto in una montagna pistoiese o raccogliere un rifiuto in piazza della signoria con un flusso turistico pazzesco di gente che la raccolta differenziata non le hanno nemmeno raccontate a scuola, voi capite bene che la generalizzazione è complicata. Quindi un'eccellenza che dobbiamo perseguire è esattamente quella di scegliere i migliori sistemi, i più avanzati in termini metodologici e tecnologici per seguire bene quel pezzo di territorio. Senta, le stare sono due, da una parte la raccolta differenziata, dall'altra parte il discorso del termo valorizzatore. Come si mettono assieme? Allora, quello è il secondo passaggio. Una volta che il materiale è stato raccolto, che ne facciamo di questo materiale? Abbiamo vari percorsi, abbiamo il percorso del riciclo che è il vero valore della raccolta differenziata. Cioè noi non facciamo la raccolta differenziata perché ci divertiamo a far dividere le varie frazioni perché da quel materiale, la campagna di oggi è un esempio e questo è anche normativa europea, il materiale deve essere avviato al riciclo per costruire materie prime e seconde. Quindi avere una buona impiantistica e delle buone società alle spalle di questa fase garantisce bene l'utilizzo del materiale proveniente dalla raccolta differenziata. Ma poiché la raccolta differenziata non potrà chiaramente esaurire totalmente, un altro aspetto fondamentale è l'impiantistica che è sempre una valorizzazione del rifiuto, che è quello dei termo valorizzatori. Indubbiamente sui termo valorizzatori, mentre sulla componente della raccolta siamo già molto eccellenti, sulla componente della termo valorizzazione non lo siamo. Stiamo portando avanti questo percorso sul termo valorizzatore di case Passerini, che sta andando avanti in maniera determinata, ormai è indirizzato, ma è un percorso che richiederà ancora degli anni per la costruzione. Questo è un altro elemento d'eccellenza. Cioè a valle della raccolta impianti adeguati e tecnologicamente adatti in termini di valorizzazione, di gestione degli inquinanti, di tutte quelle che sono le componenti dell'eccellenza. Il terzo elemento d'eccellenza che dobbiamo perseguire è quello di avere delle società profittevoli, delle società efficienti, che consentano di avere delle tariffe per i cittadini basse e possibilmente anche generare del profitto che poi si riversa sempre nelle tasche dei cittadini. Quindi questi sono i tre elementi d'eccellenza che noi andiamo a cercare. Senta, ultima cosa. A chi continua ad avere un po' di paura dell'elemento termo valorizzatore, lei che cosa dice? Ma allora, in Germania i soggetti che hanno spinto, promosso e consentito, anzi, obbligato alla realizzazione dei termo valorizzatori, sono i verdi. Allora, la termo valorizzazione oggi, che già da anni, ma oggi ancora di più, è realizzata con degli strumenti, con delle tecnologie dove l'abbattimento di inquinanti è assolutamente al di sotto delle norme di legge che sono a loro volta molto conservative. insomma, poi possiamo decidere di fare la guerra al progresso, per l'amor di Dio, ma insomma, questo è veramente l'ultimo dei problemi, oggettivamente, sul tappeto. Perfetto. Quindi la strada verso l'eccellenza è lunga, ma l'avevo perseguita? La strada verso l'eccellenza non è lunghissima. Diciamo che abbiamo intraperso un certo numero di percorsi dove credo che nel giro di non troppi anni già siamo molto eccellenti su queste cose e speriamo di diventare eccellenti su tutte e tre le componenti che vi ho detto. Grazie. Grazie.